Certo che è serio, questa lettera capitale è la G, come Galileo. Tempo di ripensare alla tua centralità. È facile dipingere con questo stile. L'acqua immobile è sempre a livello, l'acqua immobile è sempre a livello, a livello, a livello, a livello, a livello. Saluti, qui è Masterpiece. E anche se viene detto in questo modo, si riferisce alla mia parte artistica. Se non volete sprecare il vostro tempo, se volete saltare questa introduzione, andate avanti a circa 8 minuti su questo video e arriverete a quello per cui siete qui. Da quel che posso ricordare, ho sempre avuto un'abilità superiore nell'immaginare i dettagli degli oggetti, le fasi o gli eventi con notevoli dettagli. Ho anche avuto l'abilità di riprodurre quello che era dentro la mia mente, su carta o tela, perché il pubblico lo vedesse. A sei anni, la mia arte è stata pubblicata sull'opuscolo scolastico regionale nella sezione dell'arte. Sono sempre stato migliore o alla pari dei miei insegnanti scolastici. E mi sono reso conto che avevo bisogno di corsi avanzati, se volevo veramente imparare ogni cosa. Possedevo velocità nel dipingere e avevo dipinti in alcuni saloni nei paesi vicini. Non sto dicendo di essere un vanagolorioso, ma di portare e legittimare un altro aspetto al movimento della terra piana. E questo è quello che chiamo APFE, l'artistica prospettiva della Flat Earth. Come studente d'arte progredito, ci scambiamo informazioni che non vengono fornite dallo standard intellettuale o lasciate alla popolazione marchiata. Ci insegnano a vedere, e non solo questo, ma come riprodurre quello che vediamo. Così quando non c'è più, noi riproduciamo e catturiamo quello che fisicamente non c'è più. Ad esempio, come studenti d'arte dobbiamo osservare un pezzo di stoffa ripiegata o una figura nuda, per poterla poi riprodurre accuratamente in futuro, quando questo modello non sarà più presente. Una donna da un altro paese mi ha detto che voleva il suo ritratto da una fotografia, ma con dei nuovi vestiti, anziché con la maglietta di cotone, voleva un maglione in pile. Come artista dovevo riprodurre quella particolare trama di tessuto che assorbe la luce, dal peso arrugginito, spesso, eccetera, eccetera, affinché sembrasse realistico o che in realtà indossasse il maglione in pile nel dipinto. Senza imparare o osservare, un artista come me deve sempre dire di avere gli oggetti presenti nel momento della riproduzione. Ogni grande artista è in grado di riprodurre qualsiasi cosa visto o disegnato già almeno una volta prima. Questa è la capacità di una mente artistica che potrebbe sembrare autistica. Sappiamo già che c'è pieno di esempi di persone autistiche i quali sono in grado di riprodurre dei magnifici lavori d'arte da capogiro. Ma per rimanere nel tema, da bambino, quando imparavo il sistema solare, come molti bambini, facevo parecchie domande, ma non mi aiutavano perché sentivo che le mie domande erano abbastanza differenti da quelle degli altri bambini e probabilmente più evolute. C'è stato bisogno di molto lavaggio di cervello e di indottrinamento attraverso la scuola, Hollywood, TV e media, per farmi dimenticare queste domande che avevo quando ero piccolo. Ma da quando sono entrato nella conoscenza della Terra Piana, queste domande d'immagine sono rifluite nella mia mente e sono molto emozionato di condividerle con voi, perché quello che vado a spartire con voi oggi va a svantellare completamente la teoria della luna sferica, da adesso e per sempre. Prima di iniziare, voglio farvi sapere che l'arte è uno dei più importanti regni dell'imparare nell'esistenza. Scienza, matematica e fisica si possono insegnare attraverso l'arte. Quando impariamo la scienza intellettuale e le cose come l'aritmetica, la fisica, la chimica, eccetera, eccetera, si stimola la parte sinistra del cervello, ma quando incorporiamo la destra del cervello, con cose come l'arte e la musica, in quel momento impegniamo ambedue gli emisferi del cervello e questo potenzia il nostro subconscio così che i punti si collegano in modo tale da fornirci l'opportunità della soluzione di problemi con visioni più ampie. Le persone che usano sia la parte sinistra che destra del cervello mentre imparano includono entrambi nel problem solving. Questo è il motivo per cui si sperimentano esperienze artistiche mentre si partecipa alla fuga da una stanza o altri giochi creativi. Le persone artistiche sono in grado di pensare fuori dalla scatola. Infatti, la visione artistica è così importante e di forte impatto per la società che i grandi artisti di oggi hanno smesso il soggetto del dipingere. L'elite controlla la materia di questo soggetto per gli artisti nello stesso modo di come controllano l'esecuzione o la registrazione di un artista di oggi. Danno loro le linee guida e poi l'artista ha il suo margine dove deve stare o di farlo stare, tanto per dirlo. Michelangelo detestava il processo che ha sofferto per il suo lavoro più famoso, la Cappella Sistina. Gli era stato ordinato dalla Chiesa di produrre il suo capolavoro sul soffitto. Gli venne affidato il soggetto, ma è stato Michelangelo che fisicamente ha raffigurato e miscelato il dipinto che continua ad influenzare e ispirare le persone ancora oggi. La capacità immaginativa di un artista è senza rivali, per qualsiasi altro tipo di personaggio. Dalla mia personale esperienza, a volte è un peso avere questa memoria fotografica vera della vita. Immagini ossessive ed orribili che non si vogliono vedere rimangono per tutto il tempo con l'artista dopo che le ha viste. Immagini spaventose, contorte, orribili, diventano reali negli incubi o nella vita da svegli come quando qualcuno descrive una chirurgia o un incidente. La ricostruzione grafica nella mente dell'artista è così reale tanto che prova il dolore dentro di sé. Sono sicuro che molti artisti che guardano questo possono condividere questo. Questo è il motivo per cui gli artisti sono pericolosi per il sistema ed è il motivo perché le arti sono proposte come corsi opzionali nella scuola o non vengono prese seriamente rispetto alla scelta di altre carriere. Se due persone vi parlano della loro professione, uno è insegnante di matematica e l'altro un insegnante d'arte, probabilmente giudicherete l'insegnante di matematica più intelligente, più saggio, più affidabile, offidato o più professionale, oppure che merita il vostro rispetto e la pazienza, che è curioso, perché chiunque può imparare la matematica o come fare calcoli con i numeri o d'usare un calcolatore. Ora non importa quanto sia duro, ma se qualcuno non è nato con l'inclinazione artistica non sarà mai in grado di sviluppare il talento che richiede per fare il ritratto di una famiglia o di un paesaggio con i giusti colori o della luna. E parlando della luna voglio condividere le informazioni che chiudono per sempre il caso sulla possibilità o falsità che la luna sia una sfera. La luna è al 100% assolutamente non sferica e tutte le eclesi di luna lo dimostrano, e potete provarlo anche voi, tutto ciò di cui avete bisogno è una fonte di luce e due sfere. Sulla destra vedete un filmato video della scorsa eclesi di luna, di cui abbiamo familiarità, e a sinistra vi mostro come si muove un'ombra sopra una sfera e come si vede nella realtà. L'eclisse di luna non è, lo ripeto, non è l'ombra di una sfera o qualsiasi altra cosa circolare che si muove attraverso un oggetto sferico. Come lo so? Ci sono quattro punti critici di osservazione, chiunque li può vedere, e questi voglio chiamarli il fattore di conferma della superficie, il fattore della diffusione dell'ombra, il fattore dell'onda sinusoidale o fattore S, il fattore della luce riflessa. Per prima cosa desidero mostrarvi la consistenza di come si muove naturalmente l'ombra sopra diversi tipi di superfici. Questo è il fattore di conferma. Un'ombra si conforma su ogni tipo di superficie che la riceve, che, in questo modo, rivela la vera forma dell'oggetto. Se un'ombra si muove lungo qualcosa di rigido come le scale, prende la forma delle scale, rivelando i differenti livelli da gradino a gradino. Se l'ombra si muove lungo un oggetto concavo, come una ciotola, l'ombra si estende e si storce, rivelando la concavità della ciotola. Se l'ombra si muove sopra la superficie di una sfera, si estende e si distorce in modo sferico, modellandosi e smussandosi per deformarsi sulle superfici delle sfere. Nota, questo non succede e non è mai successo sulla superficie della luna durante un'eclisse. E questo ci porta al prossimo fattore, il fattore della diffusione dell'ombra. Nota, l'ombra è più crespa sul bordo della ciotola rispetto alla parte più bassa della ciotola ed è più nitida se si solleva indietro sul bordo o verso la sorgente dell'ombra. Notate anche che, su una sfera, l'ombra è più diffusa e sparpagliata attorno alle estremità, mentre la superficie della sfera recede ed è più netta o definita sulla porzione più vicina della sfera. Questo è perché la fonte dell'ombra è vicina alla superficie più sono definiti i suoi contorni. Con più la sorgente dell'ombra è lontana dalla superficie diventa più grande e più spenta o diffusa. Un altro modo per dire questo, se mettete un oggetto su una superficie con una fonte di luce sopra, l'ombra dell'oggetto apparirà molto nitida quando l'oggetto è fermo. Ma alzate l'oggetto più vicino alla fonte di luce e vedrete l'ombra che perde i suoi bordi crispi, spenti e sfumano fino al punto dove non resta assolutamente l'ombra. Questo è il fattore della diffusione dell'ombra che collegato al primo fattore, il fattore della conferma della superficie, l'ombra non solo si alza e si abbassa, si stira o curva con la superficie ma si intensifica o sfuma. Questi due fattori sono tutto quello di cui abbiamo bisogno per trovare la vera topografia o la forma della luna. Ci manca un fattore. Questo si chiama il fattore dell'onda sinusoidale o il fattore S. Visto che la luna si dice che è una sfera, l'ombra proiettata sulla luna dovrebbe prendere le caratteristiche della sfera. Questo fattore critico non appare in nessuna dell'eclissi di luna. Il fattore sinusoidale o il fattore S è quello che accade quando un oggetto tondo, diritto, sferico o inclinato, passa sopra una superficie sferica. Mentre l'ombra si muove sopra una sfera, si avvolge attorno alla sua curva, partendo dal bordo esterno per muoversi verso il centro. L'ombra assume il contorno della sfera e curva, in su, in altezza, per poi scendere indietro come la forma di un barile distorto. L'ombra seguirà sempre il bordo più vicino a causa della prospettiva. L'ombra continuerà a creare la forma ad S fino a che raggiunge il punto nel mezzo. Come l'ombra si muove oltre il punto nel mezzo, inizia ad arrotolarsi nuovamente all'esterno con la forma distorta simile ad un barile. Quando un'ombra si muove lungo una sfera in 3D, il centro, la parte più vicina della sfera che si osserva, è più piatta e la forma dell'ombra e la grandezza è la più vera che ci sia. La sfera non sarà mai piatta, ma con più grande è la sfera, l'angolo della sua curvatura sarà meno acuto. Quindi, con più la parte interna della sfera è vicina all'osservatore, si osserverà meno curvatura. Tuttavia, ogni volta che osserviamo qualsiasi eclisse di luna non c'è alcun avvolgimento, allungamento, declinazione, evidenza o sfumatura dell'ombra. Infatti, in qualsiasi singola eclisse di luna, sembra ci sia un disco piatto che si muove sopra un altro disco piatto. Mentre l'ombra circolare si muove attraverso la luna, mantiene la sua forma circolare in tutto il percorso con la stessa andatura. Nessun allungamento, declinazione, evidenza o sfumatura. luna. Spero abbiate compreso questo perché è stato abbastanza difficile per me metterlo in parole. Questi tre fattori sono più che sufficienti per noi per vedere che la luna non è una sfera, ma c'è bisogno di un fattore per comprendere cosa circonda la luna e di questa luce riflessa. Quando un altro oggetto sotto la stessa fonte di luce si trova nella vicinanza più prossima dell'oggetto in questione, vedi la luna, può ricevere la luce che rimbalza dalla Terra per riflettersi sulla luna. Quando un altro oggetto sotto la stessa sorgente di luce si trova nella vicinanza più prossima dell'oggetto in questione, può ricevere la luce che rimbalza e si riflette su di esso. Quello che intendo è questo. Con più un altro oggetto si avvicina alla sfera, si avrà una luce che si riflette più brillante. Nella menzogna costruita della bugia eliocentrica ci dicono che la luna riflette la luce sulla Terra. Ma con un oggetto più grande, la Terra, non riflette la luce facendola rimbalzare sulla luna? Dovrebbe, ma non lo fa. Perché se lo facesse, allora non avremmo la fase della nuova luna, ma invece una fase di luna scialva o una fase di luna opaca. Significato, quando la luna decresce verso il buio, allora dovrebbe essere illuminata dalla Terra. Saremmo in grado di continuare a vedere la stessa faccia della luna che vediamo ogni giorno, perché la luna ci guarda sempre. Comunque sarebbe più debole e non luminosa, perché la Terra dovrebbe riflettere la sua imponente luce verso la luna buia, specialmente quando la luna è ancora più vicina alla Terra nel suo percorso ellittico. Sarebbe brillante e opaca durante la sua fase di luna nuova. Ripeto, parlando esclusivamente da luna nuova a luna nuova, la stessa luna sarebbe sempre visibile durante la fase di luna nuova, passando da una debole brillantezza a forte e nuovamente debole mentre la luna si muove nella sua orbita ellittica. Inoltre gli oggetti riflettono il colore delle loro superfici ed il colore della loro sorgente di luce. Una catenina d'oro rifletterà il dorato, una palla verde la luce verde e il riflesso sull'oggetto sarà verde. La luce del sole è gialla o calda, mentre la luce della luna è blu e fredda. Gli astronauti dicono che la luna è nera e bianca, qualsiasi cosa significa, ma se questo significa che è una scala di grigio che va dal bianco al nero, allora è impossibile per la luna di variare la luce del sole da un colore caldo di temperatura ad un colore freddo di temperature. Sì, la luce della luna è più fredda dell'ombra della luna. Posso capire che la luna raffredda i raggi del sole e li renda meno caldi, ma non è possibile in alcun modo che nella realtà possa far diventare i raggi del sole più freddi dell'ombra durante la notte. Significato, se ti trovi sotto la luce della luna di notte, la temperatura dei raggi di sole riflessi dalla superficie della luna sul tuo viso o su un termometro saranno molto ridotti, ma non più freddi di quando non c'è la luna. Quando esce la luna di notte, la temperatura si abbassa a causa della luce della luna. Tutto ciò è stato confermato da parecchi esperimenti con l'uso di termometri digitali. Ma rimaniamo sul tema. Non c'è alcun segno di luce riflessa che arriva sulla luna dalla Terra. Cosa significa questo? Questo significa che la luna nuova in realtà è sparita. Quando la luna cresce e cala, si vede il resto della luna che non è illuminata. Mentre quando c'è la luna nuova o nessuna luce riflessa del sole, non vediamo alcun oggetto sferico velato che attraversa il nostro cielo. Infatti, durante il giorno dovremmo vedere un oggetto fiocco che attraversa il cielo. Invece, non abbiamo mai visto nessuna di queste cose nella nostra realtà. Vi ricordate di aver mai visto una luna opaca non luminosa alta nel cielo durante la fase di luna nuova? Ripeto, durante la fase di luna nuova. Non quando cresce o cala o quando non è quasi piena. Avete mai visto una luna opaca non luminosa alta nel cielo durante la fase di una luna nuova? Ora questa informazione viene portata alla luce ma non vi aiuterà mai, ma noterete qualcosa a cui non avete mai fatto attenzione prima, che durante un'eclisse l'ombra non si è mai allungata lungo la superficie sferica della luna. Nessun allungamento, declinazione, evidenza o sfumatura allontanandosi. Nessuna oscurità o distorsione del movimento sinusoidale e nessuna luce riflessa sulla luna dalla Terra. Niente. Non rimane alcun brandello dell'evidenza che la luna sia un corpo sferico che orbita attorno o sopra la nostra Terra. Questo prova al 100% e smantella qualsiasi altro argomento o prospettiva per asserire che la nostra luna sia una sfera nel cielo o che rifletta la luce del Sole. Questa informazione è in linea con la legge di rifrazione. Un riflettore può solo riflettere la luce brillante. Se la superficie del riflettore è concava ma la parte esterna della sfera è convessa e la superficie convessa riflette solo una porzione della luce indietro verso l'occhio dell'osservatore, la superficie concava riaccumula la luce propagata o riconcentra indietro la luce all'occhio dell'osservatore, mentre la superficie convessa, come la superficie di una palla, spande ancora di più la luce. Se la luna dista oltre 384.000 km, allora dovremmo vedere solo una porzione della luna chiamata hot spot o il punto più brillante o quello più illuminato della sfera. Ma non c'è alcun hot spot o punto più illuminato o punto più brillante sulla sfera della luna che ci indica la direzione del Sole. Invece abbiamo la perfetta e piana luminosità della luna che ci fornisce una luce blu e fredda. Infatti, quando osserviamo la luna piena, sembra piatta perché i bordi della luna sono esattamente luminosi come il centro o ogni altra parte della luna piena. Ora che i tuoi occhi sono aperti alla fisica e dai fatti, che farai? Sceglierai di continuare a credere a questa menzogna oppure osserverai tu stesso? Chiunque può farlo. Basta uscire e guardare in alto. Nel caso ti chieda quello che ha detto o ha da dire Bill de Grasse Tyson sull'argomento, osserva come lui stesso ha smentito se stesso. Su un social media, ovviamente sulla parola di un astrofisico principale, perché lui è andato su un social media postando questa foto ridicola di quello che lui pensa possa apparire l'ombra di una terra piatta sulla luna. Ora ovviamente lui crede che la luna sia una sfera, o almeno è quello che ha detto. Ma se questo è il caso, allora come mai non c'è allungamento o curvatura di quest'ombra? Ancora una volta voglio mostrarvi quanto è importante essere osservatore e fare affidamento ai vostri propri sensi. Dimostra inoltre il senso innato per l'osservazione acuta di un vero artista. Dobbiamo mettere insieme tutti i mondi, scienze e spiritualità, l'astratto e il letterale, l'arte e la politica, la parte sinistra e destra del cervello. Dobbiamo pitturare l'intero dipinto per riuscire a vedere la verità in ogni cosa. Tenete bene aperti i vostri occhi ed ancora una volta questo è il capolavoro. Pace, forza e protezione o rispetto. Questa lettera capitale la G come Galileo. Tempo di ripensare alla tua centralità. Tempo di pensare 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 alla tua centralità. Triguate alla tua centralità. Tervo spesse alla tua centralità. La la tua centralità. Assertati a Ministeria della ci